Il governo Berlusconi aveva annunciato 10.000 esuberi nelle poste italiane. Operazione arginata dai sindacati, che inclinano il governo ad avallare 6.000 esuberi su 10.000 inizialmente previsti. Ma il governo Berlusconi annuncia il provvedimento per cui, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, le poste potrebbero erogare il servizio a giorni alterni. Proprio così, un giorno sì e l'altro no. Tutto questo imbarba alla direttiva comunitaria che vinco la poste italiana a garantire il servizio 5 giorni su 6 lavorativi. Provvedimento che, se fosse approvato, determinerebbe le condizioni di altri esuberi. Stando ai rumors, dietro l'orientamento del governo di riorganizzare le poste italiane, vi sarebbe il progetto della Banca del Mezzogiorno. Banca che dovrebbe operare attraverso MedioCredito e le poste italiane sono i tre maggiori azionisti di MedioCredito.